Il contenitore di biorischio Il nemico si sta impossessando del contenitore Intervenite all'istante I difensori hanno eliminato tutti i nemici Sventate ulteriori accessi impedite al nemico di prendere il contenitore L'ultimo nemico rimasto Un solo difensore rimasto Attività nevica Neutralizzate il contenitore Ricarico! L'ultimo nemico di prendere il contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia Difensori neutralizzati Vittoria per gli attaccanti Ricarico! 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 Libero! Ricarico! Granata. Minna piazzata. Un operatore alleato rimasto. Carica speciale, alla larga. Devo ricaricare! Un operatore alleato. 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 Un operatore alleato.